buona sera fanciulli guerra super fast che quindi io eviterei come la peste non la vorrei neanche pubblicare ma stasera abbiamo il derby contro gli stock cagnussi che saluto tutti quanti in particolare sefirot non chiedetemi la parte iniziale del nome non sono capace per abbiamo anche giocato insieme abbiamo fatto due o tre guerre insieme sono stata un po in alleanza da lui penso un anno fa un anno e mezzo fa qualcosa del genere e quindi insomma mi tocca mi tocca e morirò malissimo qualunque avversario io scelga quindi datemi un minuto così valuto contro chi schiantarmi non offenderti sefirot ma ho scelto te io ho appena visto una cosa mamma mia meno male mi sono accorta che è la grazul sbagliata preso grazul dallo scambio la seconda che mi veniva mi veniva bene e la squadra non va bene però attenzione perché dovrei andare quindi non con un attimo mi sta incasinando di nuovo mi sto incasinando di nuovo perché i blu andrebbero bene ma con il viola ma il viola io non li metto con i blu quindi andiamo con i verdi basta via via tutti via tutti via tutti e la squadra la facciamo così mettiamo dove sei dove sei lei ok poker mi sta attaccando ok allora se faccio il viola centrale posso sperare in un verde e che parta se invece lo faccio di lato mi metto in fila i verdi mi sembra ne servono sei vediamo se eccoli 4 3 3 6 mi interessa di più andare dal lato di mamma ma poi vedo che non ho molte altre tessere sistemate infatti ma allora e mamma non la tocchiamo non voglio toccare neanche cuffo quindi allora la mossa che mi suggerisce lui non mi dà niente forse un verde qua magari no ovviamente ridendo e scherzando finisce che mi tocca andare a far maro su mamma su cu fu però poi viola e un po di verdi vediamo cosa succede succede che mi picchia basta però allora questo ne fa scendere sì ti vedo dragone però non so se farti quindi ti faccio così a noi ci piace caricare q fu così proprio allora io direi di fare così lui è carico facciamo partire i verdi uccidiamo mamma e poi ci puliamo ma sa che non mi colpisca è nata perfetto mamma dovrebbe morire mi spiace ma eri proprio lì bello 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 allora questi rossi mi piacciono particolarmente bisogna vedere se riusciamo riusciamo se riusciamo a fare qualcosa poker vedo che ancora lì allora io direi che questo bello mi piace mi piace tantissimo non caricare al friche non caricare al friche al friche si carica la prossima mossa mamma quanto a 4 80 lo sai che faccio fuori mamma così a tradimento no è rimasta viva e non mi sono caricata sono stupida come le capre mamma però mi sono caricata sono stupida come le capre mamma quindi noi facciamo questo gioco questo mi potevo risparmiarmi sabina ma era carica e infatti è andato a prendermi non può ricevere ok dunque tanto ci corriamo così rossi vediamo se entra qualcosa di qua non è entrato e al free che mi riprende se poi parte calorie anima mamma siamo posto no preferisco fare così non sto giocando benissimo secondo me sto facendo un po dei e che palle però cioè a se ne vogliamo parlare big boy dunque faccio i gialli va giù un verde potrebbe entrare un viola la potrebbe anche arrivare un rosso perché le altre mosse mi sembra e poi riparta al friche però se faccio i veri da l'altro tanto al friche la becco niente al friche la becchiamo e ce la teniamo e la perdiamo un rosso un rosso un rosso allora andiamo a prendere calo di qua con i rossi ok allora lo ricari col problema che si ricarica al friche andiamo avanti così cazzo l'avevo anche ammazzata e ho fatto partire calo ed è così che si muore felicemente no allora con i rossi no 531 se vado con i viola rischio solo di caricarlo a meno che non parta una combo divina che non è partita adesso vediamo se pulirci o no mamma mia ma perché io devo scegliere queste robe così la fantasia quanto la detesto la super fast va a tre verdi e poi lo finiamo lì ne servono altri tre ma sono sparsi per il mondo vediamo cosa viene giù mi vengono giù mi devo pulire il bordo non c'è una storia inutile che sto qui a gigioneggiare ok non ariel 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 grazie non ariel ok è sempre lì i verdi faccio partire i rossi carico il mondo intero ma mi metto in fila tre verdi se morisse al free che sarebbe già un passo avanti ovviamente non è morta ariel non è carica e quindi muoio io tanto facciamo così che lui il doppio dei danni lo fa il doppio dei danni intanto gli va a bloccare e ci facciamo questo quarto quanto ti manca due turni calo però parte e fare partire anche mamma e quell'altro cosa che a me non piace e io mi terrei però i verdi altre mosse ho il dragone verde preferisco andare su mamma tutti i miei presi ma quantomeno almeno muoio malissimo proprio guarda mamma mia mamma mia che brutte cose la super pasta vediamo se prenderlo così sto giocando un po' troppo di fretta stasera devo dire no di nuovo calo carico ma vai a quel paese niente questa me la pulisco e proviamola così ma ce l'hanno tutti con me stasera adesso vado a vedere il conteggio man fatto sì io sto percependo una vaga presa per il culo ok dai allora rossi e verdi c'è i rossi di là e basta però uno mi dovrebbe bastare allora cominciamo e vediamo se qualcuno lo fa fuori e allora andiamo a far fuori lei a posto e via andata per la cronaca poker mi ha fatto mi ha fatto un one shot secco il gneco scusate scorro veloce poi vediamo sì e quindi vedremo il resto dopo che è rimasto e andiamo con i gialli ho già un bellissimo doppio viola posso andare con i miei gialli calo e franz adesso vediamo di fare la squadra allora andiamo a prendere sicuramente justice sicuramente justice ci metterei per le rive perché la passiva mi viene bene mi servirà mi servirà un dispeller quindi io verdi o viola io a questo punto opto per i verdi mi mettiamo endal e dove è il mio amichetto melendoro adesso ho un giallo un verde griffine veloce anche gulli potevo mettere invece mi porto leonida il quale poverino non ha emblemi né niente ma me lo porto me lo porto per il mana ok dunque cominciamo così se voglio un altro giallo se lo faccio così mi va lì mi rischio di caricare l'uppo capo però mi faccio anche i verdi e ho sbagliato a contare qualcosa ho fatto di fretta porca miseria non va bene però cominciamo così che già questo mi sembra ottimo lupo capo parte parte anche al freak vediamo se qualcuno resiste ha resistito me l'endoro mi sembra ottimo ok non è andata lei muore io non vorrei toccare nessuno quanti turni ancora due di là no non vorrei neanche andare a toccare troppo i gialli e sono riuscita a sminchiare i gialli non ci credo loro sono tutti carichi per cui a questo punto andiamo a metterceli in fila io la super fast non la devo giocare c'è lì solo qua i gialli non voglio toccare calo preferisco andare di là e calo è partito lo stesso cosa devo fare io non so giocare alla super fast ok oh certo non portarti il dispeller perché poi è da persone intelligenti portarsi il dispeller vero allora facciamola così vediamo cosa viene già allora intanto ci aumentiamo l'attacco la seconda volta che muore calo sono a posto e lui è andato guerraccia guerraccia penso di aver finito anche i colpi esattamente quindi io ho fatto schifo ma dai 203 bisogna ancora attaccare grande l'estate gli avversari stanno andando notevolmente meglio loro hanno 90 colpi ancora sono 2008 noi 79 siamo 2004 potrei dire quasi tranquillamente che l'abbiamo persa comunque intanto pubblicherò domani o dopo domani e quindi vi faccio sapere com'è andata ve lo metto nei commenti che era un po' che non lo mettevo mi hanno sciottato di nuovo e che caspita eh sì ho tolto gli emblemi a Isarnia quindi sto usando Justice e non mi non mi tiene così bene la difesa peccato niente un bacione a tutti e soffrirò stanotte sapendo che perderemo il derby baci ciao